Io credo che la pasta sia un prodotto molto significativo perché non si aggiunge nulla alla pasta, si sottrae. De Mattei Sacra Alimentare è un'azienda familiare dotata di un mulino e un pastificio a Flumeri in provincia di Avellino. È un'azienda molto presente sui mercati internazionali. Per l'85% esportiamo i nostri prodotti. Siamo molto legati al nostro territorio. Oggi contiamo oltre 800 aziende agricole che coltivano per noi un grano 100% italiano. Attraverso Cassa Depositi e Prestiti abbiamo trovato un'interlocuzione di alto profilo soprattutto per aver compreso le linee di sviluppo del nostro progetto per i risvolti di sostenibilità sociale e ambientale sia nei confronti della comunità degli agricoltori ma anche nei confronti dei consumatori. Vediamo sicuramente nuove opportunità anche con Cassa Depositi e Prestiti laddove si voglia sostenere la crescita anche all'estero. La pasta è un prodotto davvero speciale che si sposa con quello che credo l'uomo stia ricercando nell'alimentazione. Cioè è un prodotto vero, ha quei valori di semplicità, di naturalità.